Salve ragazzi, benvenuti al canale, oggi ragazzi di nuovo qui sulla splendida mappa AmarCord, ovviamente su Farbig Simulator 19, ovviamente di nuovo in compagnia del nostro buon collega Sten84 che salutiamo e diamo il bentornato. Ciao a tutti, ciao Simulator, buongiorno a tutti e grazie per l'invito sulla mappa AmarCord. Allora ragazzi siamo qui sul campo 26, siamo a fine estate, terzo giorno di estate, purtroppo per mia grossissima distrazione, non so se vi ricordate le balle che abbiamo fatto lo scorso episodio e che poi in realtà off camera mi sono andato a terminare, sono completamente andate in fumo. Perché avendo mandato avanti il tempo veloce per fare ovviamente crescere i campi che oggi andremo a trebbiare, ha piovuto e quindi le balle possiamo dirgli addio ma siamo fortunati perché oggi abbiamo il collega in primis e seconda cosa il campo è di nuovo pronto per la raccolta. Quindi collega, detto che si è sbeffeggiato di me, ora si tocca, si tocca che si falcia di nuovo il prato e nel frattempo io raga ovviamente vado a preparare la trebbia perché, ah no 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 no, beh sì, in realtà sì 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 che no no. Ci prepariamo la trebbia perché andiamo a trebbiare la vena e poi in questo episodio finalmente andiamo a vedere la prima coltura un po' diversa dal solito, ovvero andiamo a vedere la VCS che dobbiamo andare a dare ovviamente alle mucche. Ma nel frattempo che mi avvio verso i miei campettini, vi ricordo raga che in descrizione potete trovare tutti i miei link utili, compreso ovviamente il link per preordinare Farming Simulator 22, il link per l'acquisto del Season Pass, il link del buon collega, insomma. Trovate tutto quello che vi interessa lì in descrizione. Mi raccomando raga, tanti bei like per questo nuovissimo episodio che così supportate non solo i video ma anche il lavoro che facciamo. Bene, ok raga, allora ho settato il percorso, partiamo adesso con ovviamente la trebbiatura del nostro bel campo 1, gli sblocchiamo un po' di velocità ovviamente. Lo facciamo andare per il momento con l'operaio, tanto poi se avrà bisogno ci chiamerà lui. Bom, avena, speriamo mi faccia paglia perché ovviamente poi questa paglia la vado tutta a vendere perché con un buon prezzo che c'è lì al biogas. Dobbiamo andare anche a falciare il campo 40 poi, quindi una volta che termini sul 26 dirigiti subito verso il 40. Ah, ma no! Diciatura dell'erba. Io per falciare mi andrei a prendere, sì, un paio di falciatrici ce le abbiamo. Allora raga facciamo una cosa, ci stavamo un attimino io e il collega un attimo discutendo sul fatto. Allora le modalità sono due, o trinciarlo e metterlo nel bunker per poi farlo fermentare e eventualmente avere la VCS diciamo così sciolta, oppure il metodo che vorremmo fare noi per seguire la linea balle, diciamo così, è falciarlo e poi andarlo a imballare e fasciare con l'imballatrice e la volgiballe. Io credo che vado di questo sistema per il momento, poi in futuro andremo a provare anche il sistema sciolto. Però io partirei con il sistema classico, quindi con le falciatrici. Ovviamente non vado a prendere queste falciatrici megagiganti raga, aspettiamo solo che il collega finisca a questo punto il campo 26. A questo punto se vai a falciare anche il campo 40 così una volta finito posso prendermi le falciatrici e tenermele. Ovviamente tutta questa avena non ce la terremo, cioè ce la terremo voglio dire, non la andremo a vendere perché a breve, brevissimo direi probabilmente già dalla prossima puntata, arriverà un nuovo allevamento. Nello scorso episodio tra i commenti mi avete detto, Simu guarda che in realtà il toro non ti serviva a niente se non alla riproduzione delle mucche perché il latte te lo avrebbero prodotto comunque dopo il primo anno di età, quindi quando le mucche entravano diciamo in maturazione. Vi ringrazio perché non conoscevo sta dinamica, perché qualcuno nel vecchio episodio mi aveva detto che effettivamente serviva il toro, però a quanto pare il toro se non per la riproduzione non serve a nulla. Ma comunque tanto il toro noi ce lo teniamo comunque perché tanto per la riproduzione ci serve, e quindi voglio aumentare un pochettino il numero di mucche, quindi no problem. Però ovviamente la questione del latte è veramente partita a bomba, eh raga, perché adesso siamo arrivati alla bellezza di praticamente 19.000 litri di latte. Credo che entro il giorno in cui possiamo andare a vendere il latte, che è praticamente il secondo giorno di autunno, arriveremo a picchi di latte veramente mostruosi, mostruosi. Stesso vale per il concime, raga, già 40.000 litri, liquami un po' meno, siamo sui 9.000 litri, ma è giustamente perché dandogli sempre paglia fanno, tendono a fare molto più solido che liquido. Guardate qua, adesso prima di andare però raga un attimino a voltare l'erba per poi andarla a raccogliere, vado un attimino a pulire la stalla delle vacche che hanno bisogno di un po' di pulitura. Bom, ok, pulitura della stalla effettuata, raga, adesso dovrebbe essere completamente sistemata. Vediamo un po', allora sì. Pulizia, vabbè, adesso mi dice ancora 0%, perché se io forse mando magari un pelino avanti dovrebbe darmelo. Ok, 100%, perfetto. E acqua, paglia, siamo a posto. Razione mista, vabbè, poi dovremmo dargli. E la manca ancora l'erba. Qua sul 40 poi cosa devi farci? Eh, la voltiamo fino all'ultimo stadio voltabile. Fieno, allora? Eh, no, perché in realtà non me lo dà fieno, mi dà erba medica appassita. Ah, perché devi andare avanti. Una volta che è erba medica appassita, lo mettiamo giù un macchinario, probabilmente. Mettiamo giù un macchinario per il fieno. Ok, raga, abbiamo terminato la voltatura dell'erba. Allora, nel frattempo che stavo voltando, visto che la trebbia, eccola qua. Allora, andiamo un attimino a scaricarla. E poi andiamo a ranghinare sta erba, la andiamo di nuovo a imballare e le andiamo finalmente a portare alle mucche. E poi andiamo a buttare giù appunto questo, non saprei neanche come chiamarlo, essiccatore, sì, essiccatore di erba direi. Ok, raga, partiamo un attimino con la ranghinatura di questa bell'erba. Facciamo un po' di andane e poi veniamo a fare le balle. Ok, raga, terminata la ranghinatura dell'erba. Ok, bisognerà poi venire solamente a fare le balle. E nel frattempo anche il... Dovrebbe aver finito in teoria, vediamo un attimo. Sì, ha finito. La trebbia con il campo 1 ha terminato. Volendo anche dall'avena si poteva fare VCS, vero? Sì, sì. Beh, però non è una cattiva idea se facessimo magari... Ma le mucche hanno bisogno di qualcosa a granelle? Fieno, no? No. Tutto erboso, hanno bisogno tutto di erba. Perché sennò magari mi tenevo un campo ad orzo e un campo ad avena e facevo VCS da uno e dall'altro. No, no, provaci prima. Beh, cioè, certamente. Adesso vado a portare la trebbia lì vicino. Vado prima a provare. Certo, certo. Di sicuro non faccio cose avventate. È normale. Ma credo di sì. Fino all'avena era, mi sembra. Sì. Perché poi i semi di soia non dava niente. Esatto, esatto. È fino all'avena, infatti. Però per essere sicuro ci proviamo. Va prima di mettere l'operaio che magari mi trebbia l'orzo che poi mi serviva per la VCS. Sì. Ok, raga. Eccoci sul campo 14. Allora, facciamo sto test per l'appunto per vedere se... Ma perché si accendono da sole le falciatrici? Cioè, non tocco niente, giuro. Sono stregate queste falciatrici oggi. Vai, falci. Eh sì che falcia, ma certo che falcia. Ma vai che meraviglia. Oh, prima volta che faccio la... VCS. La VCS in questa maniera qua, eh. Perché non l'avevo mai fatta. L'ho sempre... Ho sempre trinciato il frumento e poi fatto... Insomma, ho fatto la VCS. Crops, what? Sì. Avena, mietuto. Sì, è giusto. Perfetto, raga. Haha, che figata. Bellissimo. Raga, devo dire un metodo davvero interessante. Perché così dovrebbe risultare davvero molto più semplice poter fare, come dire, la VCS per l'appunto. Senza dover andare a utilizzare, quindi ad avere l'usilio della trincia o di altre cose. Così dovrebbe risultare davvero molto più semplice e più alla nostra portata. Così dovrebbe risultare davvero molto semplice e più alla nostra portata. Ok, raga, dai. Siamo arrivati già a buon punto. Praticamente ho terminato il campo. Come avete visto abbiamo lavorato abbastanza rapidamente con questa lavorazione. Perché tanto alla fine bisogna solo falciare. Quindi la difficoltà sta solo in quello. E niente, credo che metterò un operaio per terminare giusto questo pezzettino di campo. E mi vado a prendere a questo punto... Niente, non devo voltarla questa roba qua, vero? Devo solamente poi ranghinare e ballare. Sì, raccoglierla. Sì. Ok. Io però ho una domanda. Forse sono andato oltre. Sì, cioè? Erba medica essiccata. Ah no, sì, questa qua. Erba medica essiccata. No, non... Ah, erba medica essiccata? Si vede che allora a questo punto l'erba medica si comporta in maniera di... Ma sì, però di solito anche l'estate scorsa l'avevamo provato a inizio estate era. Sì, era inizio estate. Era autunno? Era già autunno? Eh sì. Ah, vedi, 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 vedi. È interessante però sta dinamica, eh. Però devo dire, non è così complicato far fieno su sta mappa, eh. Devo ammettere, non è poi così... No, per cui qua bisogna andare a ranghinare. Eh sì, dobbiamo a questo punto ranghinare, sì, sì, sì. Qua sta finendo di lavorare, qua sta facendo fieno. Eh, che devo fare io? Devo andare a ranghinare. Ti serve ranghinatore? Sì, ti serve. Quindi vado a sistemarmi... Sì, massimi... Vabbè. A questo punto l'aspetta che devo un attimino sistemare solo la trebbia. Vabbè, faccio da 20.000 le balle. Sì, fai da 20.000, certo. E poi, non so, sto fieno di erba medica, che ce ne dobbiamo fare? Beh, per il momento lo teniamo perché forse qualche animale prossimo potrebbe aver bisogno del fieno di erba medica, effettivamente, quindi probabilmente ancora la teniamo, raga. Poi vediamo, se non ne ha bisogno il prossimo animale, lo andiamo a vendere. E buonanotte. Ma se io mettessi, scusa, un operaio, cioè sto facendo sto lavoro, ma se io mettessi un operaio, campo 1. Laverda, vediamo un po'. Punto successivo, me lo prende il punto. Sì, ok, buon. Operaio alla mano, raga. Lasciamo lavorare il fendino col cron. Intanto voglio andare a vedere il fend questo qua grosso, come sta messo. Sì, oramai abbiamo finito, dai, con questa lavorazione. Erba medica essiccata. Erba medica essiccata, sì, in teoria è la traduzione letterale di fieno. Dovrebbe essere. In teoria non c'è altro. Erba medica essiccata, erba medica semisecca, erba medica fresca, erba medica fermentata. L'ultima dovrebbe essere, non c'è altro. Sì, sì, non dovrebbe esserci altro, sì, esatto. Allora, qua, raga, abbiamo finito. Dobbiamo poi venire a ranghinare, come detto, a fare fieno. No, scusate, a fare WCS. Abbiamo finito, dai, sì. Mi faccio giusto io questo pezzettino, ultimo pezzettino. Voilà, dai, basta. Non vado più a fare nient'altro. Stop, chiudi tutto. Chiudi tutto, chiudi tutto. Boom. Perfetto. Allora, andiamo verso casa. La falciatura della vena è stata fatta. Dobbiamo solamente poi venirla per l'appunto a imballare. E vado verso il campo, qual è? Due, sì, che dobbiamo fare ancora WCS dall'orzo. Quindi mi dirigo verso il campo due. Ok, raga, ho creato il percorso qua sul campo due. Così partiamo con, come si dice, la falciatura della, appunto, dell'erba. Sì, dell'erba, scusate, dell'orzo. Crops, what? Ok, perfetto. Anche qua è partita, allora, in maniera decente. Bene, perfetto. Nel frattempo che questo va verso il biogas, poi lo andremo a scaricare una volta pronto. Qua il deutz è fermo. E allora, niente, dato che abbiamo sempre bisogno... Ma cosa dice? Me la prendo un'altra imballatrice. Tanto me la vado a prendere. Io credo che il sistema che ho io sia il migliore, diciamo. Sì, ranghini e imballi direttamente. Allora, facciamo così. Rimango più o meno della stessa linea, raga. Perché mi sono trovato veramente molto bene. Quindi rimango su quella linea questa qua. Galignani, Wernerand, Vicon e Fend. Allora, abbiamo la Vicon noi. Che dici? Mi sposto sulla Galignani o sulla Fend? Quale delle due? Verde o arancione? Sulla Fend. Fend, immaginavo. Tanto guardate, ci servono le imballatrici. Quindi conviene avercene una di scorta. Anzi, sai cosa ti dico? Dimmi. Voglio augurare il fatto che abbiamo preso una nuova imballatrice. Prendiamo pure un nuovo campo ad erba. E lo sistemiamo magari a trifoglio. Ma sì, dai. Che dite, raga? Tanto devo dire che... In questa mappa... I campi ad erba mi stanno piacendo veramente molto. Quindi... Sì, 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 sì. Facciamo proprio così. Ok, raga, dai. Abbiamo finito. Faccio giusto questa ultimissima ballettina da 2000. Dai, mi tocca sempre ripiegare sulla paglia. Non riesco mai a terminare un'unica balla su sta... Caspiterina di... Oh... Allora, spegni tutto. Alza tutto. Ok, allora. Ho fatto praticamente tre balle da 20.000. Quindi 246, 62.000 litri. Allora, a questo punto, qui abbiamo fatto già un po' di robine. Voglio andare, prima di terminare la puntata, raga, a comprare per l'appunto questo nuovissimo campo ad erba. Allora, raga, per rimanere più o meno nella stessa linea degli altri campi ad erba, vorrei del 40 e del 26, vado a prendermi il campo 5. Però ha la bellezza del potenziale di rendimento previsto del 122%, perché è praticamente tutto franco. E lo vado a trasformare praticamente a trifoglio. Sì, vado a fare trifoglio, sì, esattamente. Poi, man mano, altri campi li andremo a sistemare a erba per cavallo, eccetera, 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 eccetera. Non ci manca, eh. No, devo dire, molto carino come campettino, eh. Sì, 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 molto carino. Va bene, facciamo che andiamo direttamente ad ararlo, lo andiamo ad analizzare, ad ararlo e basta. Allora, io ho finito sul 40, però, nel frattempo. Intanto già che parliamo di paglia, devo andare un attimino però a scaricare il fendino. Poi questa raccolta della paglia, raga, me la continuerò io off camera, perché tanto nel frattempo che qua finisce qua dobbiamo svuotare, poi anche la trebbiatura penso che me la andrò a terminare off camera. Qua devo un pochettino sistemare, vedo che non ha proprio fatto un lavoro eccelso, quindi poi dovrò andare a sistemare tutte queste zone qua, quindi per il momento lasciamo stare. Nel frattempo, collega, se poi tu vai a raccoglierti le balle sul 40, mi vai per piacere a raccogliere anche le balle sul 26, che ci sono 3-4 ballette, me le scarichi tutte sotto il capanno delle mucche, poi me le vado a sistemare. Ok, raga, abbiamo analizzato tutto il campo 5, devo dire l'estensione è molto carina, sembra piccolo ma effettivamente poi non lo è. Allora, vediamo un po', eccolo qua, guardate che bellezza, totalmente franco, ma giusto una puntina che viene influenzato dal campo 40, giusto una puntina di franco sabbioso. Allora, volevo vedere solo una cosa però, perché non ho dato, non ci ho dato un'occhiatina sinceramente. Qua è da azotare, sì, azotare vabbè sì, ma devo dire, voglio dire il pH, sì, dobbiamo dargli il pH. Allora, vado un attimino a sistemargli il pH. Allora, vai, ricarichiamo la calceviva. Raga, nel frattempo che ricarichiamo la calceviva, volevo andare a dare una cosa importantissima alle pecore. Eh sì, vabbè, scusate, alle pecore. Voglio dire alle... Allora, qua andiamo in farm. Alle mucche. Volevo dargli l'erba, che ne hanno di necessità, quindi poi adesso aspettiamo che arrivi l'operaio e vado a dargli l'erba. Boh, nel frattempo che aspetto l'operaio vado a dare un po' di calce, va. Allora, via, partiamo rapidamente qua sul campo 5. Avrà bisogno di un sacco di calceviva, ma almeno poi, avendo la calceviva, posso vedere bene dove sono i bordi del campo e andare, come ho detto prima, a sistemare con la terra i bordi esterni di questo campo, così almeno poi non rischiamo di andare a far disastri con l'erba e il trifoglio. Ok, raga, calce del campo 5 sistemata. Perfetto. Poi, eventualmente, se altri terreni avranno bisogno di calce o di fertilizzanti, tipo i terreni 40 e 26, poi andrò a sistemare io tutto off camera, raga. Direi che per questo episodio possiamo comunque terminarci qua, perché abbiamo già visto un sacco di cose. Detto ciò, raga, io vi ricordo che ovviamente in descrizione potete trovare tutti i miei link utili, compreso ovviamente il link per preordinare Farming Simulator 22, il link per l'acquisto del Season Pass. Detto ciò, raga, io vi mando un grosso saluto, un saluto al buon collega e ovviamente ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!